Ciao ragazze, oggi vi propongo una ricetta molto veloce e semplice da preparare il sorbetto al limone allora, per due persone ci occorreranno due limoni 200 ml di panna 150 g di zucchero iniziamo con lo svuotare i limoni tagliamo le due estremità la prima tagliamola un po' di più in modo da far fuoriuscire la polpa la seconda estremità dovremo invece tagliarla di meno per evitare di far fuoriuscire la crema con l'aiuto di un coltello faccio fuoriuscire la polpa dal limone e la verso all'interno di una ciotola ripeto l'operazione anche con il secondo limone aiutare di!. travaso il succo eliminando cosi i semini e la polpa colpa. Aggiungo lo zucchero e mescolo fino a quando non si scioglierà completamente. A questo punto monto la panna con l'aiuto delle fruste. E la verso nel succo, mescolando fino a quando non terrò una crema omogenea. Una volta ottenuta la mia crema, vado a versarla all'interno di ciascun limone. In questo caso mi aiuto con un cucchiaio, ma potremmo utilizzare anche una sac à poche. Io, dal momento che utilizzo quelle usaggetta, le avevo terminate e così appunto sono ricorsa all'aiuto del cucchiaio. Lascio riposare i miei limoni nel congelatore per circa 2 ore, per poi servirli in una calda serata d'estate.